E' rimasta impressa nella memoria dei catanzaresi la visita di Giovanni Paolo II nella città capoluogo avvenuta nel 1984. Tanto è vero che nel 35esimo anniversario sono state diverse le iniziative. Una di queste è l'inaugurazione di una mostra all'interno della quale è possibile ritrovare materiale fotografico ma anche numerosi oggetti adoperati nell'occasione. Ma non si tratta di un'esposizione fine a se stessa, attraverso la mostra si vuole ricordare l'esempio di vita di Papa Voitila. Quando parliamo di un santo non posso che dire a tutti quanti attingiamo a questa santità di questo nostro fratello che dalle difficoltà sociali e politiche dove è vissuto e si è formato dal comunismo prima maniera ha illuminato il mondo col suo magistero. Quindi da ognuno di noi, cominciando da me, cominciando da me, essere virtuosi come lui, coraggiosi come lui nel difendere la Chiesa, i valori cristiani, nel sapere dialogare con il mondo ed essere strumenti di pace dovunque noi ci troviamo. Ecco, chi visiterà questa mostra io mi auguro che riporte alla memoria tutti questi bei pensieri e posso uscirne dicendo anche io voglio aprire la porta a Cristo come lui ha detto.